Ben ritrovati, torna Autodrive Sport & Show e allora per un'altra grande puntata speciale, davvero speciale, ospiti speciali, tutto speciale stasera. Cioè, no ma senti, tu sei l'allenatore di Bode Milka, ma lui dov'è a proposito? Ah, lui stare bene. C'è un silenzio in studio, cioè dimmi un po'. Ah, lui stare bene, lui essere a casa, io avrei detto a lui di liberarsi dai pensieri, di liberarsi da tutti i problemi che lo assistiamo io per la prossima gara. Liberarsi da che? Oh mamma mia. Ci avrei pensato io. Senti, tu dovresti essere il suo allenatore. Vediamo cosa mi ha portato qua, lo riusciamo a inquadrare? No, ve lo devo far vedere perché anche oggi abbiamo... Non dire a Bode, che lui non sapeva ancora nulla. Il gutalax. Sappiamo che Bode è sempre nei bagni del rifugio ogni volta che viene a fare queste cose. Ma io non sapere perché, io non sapere niente. Comunque, io non so cosa sei fatto, me lo volete dire? Dobbiamo... Niente, niente, tutto bene, tutto perfetto. Puoi stare molto bene, lui relaxa. Ah certo, con un'allenatore di questo genere. Io voglio vedere cosa è successo, voglio vedere questo video. Buongiorno, buongiorno. Oh, sì, buongiorno. Buongiorno. Essere qua il grande relatore, per grande piole di sci, potrebbe. Guarda, in questa amica ho la scuola di sci. E cos'è essere questa baita che io come chiamare qua? Cervino. Cos'è essere il cervino? Se non lo vede, oltre a un pronto soccorso avrei bisogno anche di una vista dall'opulista. Oh, sì, perché? Cos'è essere il cervino? Cos'è fare ci qua? Non fare il maestro di sci? Non vado il maestro di sci, do da mangiare a quelli come voi. Oh, ok. E da bere. Oh, quindi tu devi mangiare e bere anche a me? Sono grande che piole di sci? Oggi forse una camonina, non c'è caldo, direi più che sufficiente. Ok. Fammi capire, abbiamo anche stanze tu qui al Cervino? Noi abbiamo le stanze per il cervino, rifugio direttamente sulle visse, sulla pista Castellazzo-Bassolone. Abbiamo delle camere. Essere stanze colorate o? Sono tutte stanze colorate, in effetti hanno il loro nome, la gialla, la camera azzurra, la camera rosa, la camera verde. Oh, sì. Caratteristiche di alta montagna. Scusami, madame. E allora, come trovare il maestro di sci in sua baita? In mia baita non è maestro di sci, deve cercare una scuola di sci, ma forse è meglio se la cercava prima. Oh, voglio essere giugno, voglio essere caduto su questo, ma voglio una pista. È meravigliosa. Il mio ram, ma io avevo utilizzato il mio ram, maestro di coro, oh, sì. Chissà come mai se n'è andato, io mi chiedo. Chissà come mai l'ha abbandonato. Mister K.O. Mister K.O. 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 Teppico. E dove è dopo? Allora, quindi niente, 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 niente. Niente allenatore, niente miso, niente te, niente. E allora, io mi ne duermi in sua baita? C'è stato anche su, grazie. Grazie, a te, ah, oh. Oh, yeah, ah, questo? E allora, io sono scuri, io ne so, a te, ah, mi no, a te. Si, papuno, non ho mai tanto, che non ho mai tanto, che non ho mai tanto. I can't hear you tonight, che miro canto. Boom, shake shake, shake the blue, boom, shake shake! Scusami, hai sioo maestro per grande campionistro? Si, perché? Io felice, io chiedere te se tu fai mio grande maestro. perchè io ho grandi campioni di sce ma figurati ti saranno neanche in grado di andare su di ti ma no io ho grandi campioni io vengono giù da grandi piste fare giù mio maestro ma cosa ti ho visto stamattina a te fa rida? perchè questa mattina cosa si aveva fatto io aver vinto gara? cosa hai vinto di? gara! Nabucodale Neto ha vinto adegliare ma no ti prego mister fare giù da mio maestro ma non esiste ma ti prego di essere disperato mister sconta pacca guarda no mister ti prego ci prego ci scorgiamo mister no io non volevo bere io volevo un mister ti prego insegnare giù a me signore mio maestro subito ti prego mister oh yes ci volevo insegnare loro yes ma non sei il padre niente io essere veramente disperato io disperato mister no non ci volevo insegnare niente io essere disperato disperato cioè mi fa tenerezza per la prima volta body milk mi fa tenerezza io non vi posso lasciare soli un attimo vediamo il video cosa è successo a body milk e poi torniamo in studio per i saluti e giudicare voi dopo eh? giudicare noi eh? sono state non ci volevo non ci volevo non ci volevo io ci volevo non ci volevo Oh! Oh! Mamma! 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 Miju, non è che non è possibile! Mi sta ucciso! Mi sta ucciso! Come ho ucciso? Tu vai essere un incapace, questo non è possibile, questo partito senza caschetto, questo venire giù, senza... Ah, io andare via, io meno andare non... Non essere tua licentare, io licentare te, io licentare te, io licentare te, io vado via, vado, questo non essere cosa...